5 novembre 2024, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace. Cari figli, io sono la vostra madre e vengo dal cielo per offrirvi il mio amore. Siate docili alla mia chiamata. Ascoltate i miei appelli e sarete grandi nella fede. L'umanità è malata e ha bisogno di essere guarita. Ritornate al vero amore e vedrete la pace regnare sulla terra. Piegate le vostre ginocchia in preghiera, perché solamente così potete contribuire al trionfo definitivo del mio cuore immacolato. Camminate per un futuro di grandi prove. Datemi le vostre mani e io mi prenderò cura di voi. Conosco le vostre difficoltà e pregherò il mio Gesù per voi. Avanti senza paura. Quando tutto sembrerà perduto, la vittoria di Dio verrà per voi. Non dimenticate. Nell'Eucaristia è la vostra vittoria. Pulitevi da ogni sporcizia spirituale e cercate Gesù nell'Eucaristia. di Dio verrà. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.